Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video Oggi siamo qua con un nuovo torneo, il torneo Novi Partiamo subito con una partita bellissima Forse è la squadra più difficile da affrontare, l'Antomas E vedremo come ci comporteremo Abbiamo una squadra che doveva essere iniziamente molto forte Però oggi abbiamo qualche assenza, abbiamo giocatori un po' così così A livello fisico, quindi vediamo Eh sì, c'è qualche acciacco a livello fisico Poi soprattutto è importante l'assenza di Ivan Pozzi Non c'è di Bitonto, non c'è Ferrante Giocatori che ci sarebbero dovuti essere Oggi comunque i giocatori chiamati in causa non sono sicuramente inferiori Però c'è chi ha qualche acciacco fisico Quindi comunque questo andrà a incidere sicuramente sul torneo Inoltre sappiamo che anche tu non sei al 100% della forma Il calendario ha voluto, come di solito siamo fortunati come sempre Di affrontare la squadra più forte nelle condizioni peggiori possibili Però lo stesso, essendo la prima partita del torneo Abbiamo comunque margine di qualificarci Abbiamo margine di fare un ottimo torneo Quindi l'obiettivo sicuramente oggi è dare il 100% E fare anche le prove generali in vista delle prossime partite Detto questo volevo chiederti come fossi messo fisicamente Sì, non sono al 100% Sicuramente non posso dare tutto me stesso Cercherò un po' di contenermi Però cerco comunque di dare il mio contributo alla squadra e di vincere Poi come hai detto tu, magari questa è la partita più difficile Non siamo al top Dai, siccome ci possiamo un po' più gestire Però sicuramente è importante cercare di vincere Tra l'altro contro l'Antomast abbiamo vinto a Polesella Però oggi comunque è una squadra rivoluzionata Così come noi che abbiamo tante assenze Detto questo, sei carico per questa partita? Sì, certo, sono carico Pronostici? Eh, non lo so, oggi è dura Vediamo sul campo, dai E allora noi adesso andiamo all'interno dello spogliatoio Andiamo a vedere chi parteciperà a questo torneo nuovi Per la squadra Fabio Di Maurofficial Andiamo a vedere Clima partita, com'è raga? Tra l'altro abbiamo Renat Garlesco Direttamente dalla Serbia Come ti senti Renat? Sei carico? Sì, ciao Poi abbiamo il mitico Guido Ex compagno di Fabio a finale Emilia Per i più affezionati se lo ricorderanno Sei carico? Sono carichissimo Sei più in forma rispetto a finale Emilia o meno? Più di più Poi abbiamo Giuliano Ovviamente una certezza di questa squadra Il pilastro Come ti senti? Bene, bene, dai Sono grossi compagni però Può fare bene Mi vedo degli carichi Ma sì Chi è che ti mette più soggezione dei tuoi compagni? Ma E poi abbiamo il portiere Il numero uno Oggi poca pressione psicologica Per lui che è chiamato a sostituire di Bitonto Come ti trovi a prendere il carico? Il campo che conosco è un tono che conosco Sei tranquillo Vedremo Vedremo se sarai tranquillo anche alla fine di questa partita Ed eccolo anche FDM Ritorno alle scarpe da calcio Forse non per l'ultima volta Chissà Mai dire mai E intanto stiamo aspettando a Bracalaia E' essere più offensivo E' un po' un po' E' un po' di più Eccolo lì a Bracalaia Eccoci dunque in fase di telecronica Per raccontarvi il primo episodio di questo torneo nuovi Match di qualificazione E inizia subito Con il destro di Abracalaia Che becca lo specchio della porta Non destra però particolari sospetti Al portiere dell'Antomas Ricordiamo l'Antomas tra l'altro È la squadra che è riuscita a vincere il torneo nuovi Nella scorsa edizione Vediamo se riuscirà a farlo anche in questa fase del torneo Sicuramente E' una delle squadre che ha qualcosina in più Rispetto a tutte le altre E noi siamo rimaneggiati quest'oggi Però sicuramente non ci abbattiamo Vero Fre? Sì allora Sicuramente l'FDM si presenta come una buona squadra Diversa rispetto a quella che abbiamo visto nell'ultimo torneo Però con grande qualità e giocatori nuovi Adesso il destro di Renat Gerlesco Sull'assist di Nicola Scalaia Non riesce però ad estare particolari sospetti Al portiere avversario Adesso ripulisce la squadra avversaria Con il 22 Stefanelli Da questi a Fariselli Buona l'imbucata Adesso per il numero 9 Cerca di gestire questo pallone Duello un po' in mezzo al traffico Nic cerca di andarsi a riprendere la sfera Non ce la fa E adesso ancora Fariselli Cerca l'imbucata per il 9 Adesso il fallo di Nic Un po' ingenuo qui A dirla tutta No parte il 22 Alta Altissima Sopra la traversa Pochi pericoli Per l'FDM team In questo caso E ora Pitt Che va a giocare questa Sfera per Giuliano Caputo Che cerca la verticale Per Nick Non si trova Non si capiscono i due Tra l'altro prima volta Che giocano Questi 5 assieme Ritroviamo anche Guido De Rosa Come avevo detto nel pre-partita Un ex compagno di Fabio A finale Emilia Adesso ottimo lavoro Per i Fariselli Che va da Baglio Che cerca lo spazio per il destro Lo trova Bucca le manone a Pitt Ed è subito vantaggio per l'Antomas Forse avrebbe potuto fare qualcosina in più Qui Pitt Allora sicuramente intanto C'è stato un bel tiro da parte di Baglio Perché il tiro è veramente potente Non è angolatissimo Forse si Pitt avrebbe potuto fare Qualcosina in più Lo conosco bene come portiere So che comunque Adotta questa scelta Di non utilizzare i guanti Anche in questo tipo di contesti E anche con un pallone Comunque di calcio a 11 Secondo me Può condizionare Anche un po' Essere un portiere da puzza A giocare così Eh sì Forse non perfetto però Bello comunque il gesto tecnico Da parte del numero 9 dell'Antomas Che ha tirato di fatto una bordata Intanto si scalda Fabio E ora Stefanelli Gioca la sfera destra Ancora una volta per Baglio Che cerca di cavarsela Sulla pressione di Calaia Poi Reinhardt va sul portiere Lancio lunghissimo Giuliano Riesce a respingere Poi ancora il portiere Stop difettato E adesso Fallo laterale Abbiamo visto principalmente un'occasione Quella del gol Per la squadra in casacca viola È una partita che rimane In equilibrio Però Bisogna anche un po' Rodare questa squadra E vedere se può andare in equilibrio Perché un po' sto mancando Eh sì Adesso Cesari Fariselli Adesso lotta Ancora una volta Nick Che si va a riprendere il possesso Di rabbia Di voglia Si porta a casa anche il calcio di punizione Che batte in fretta Intanto entra Fabio Di Mauro Esce Guido De Rosa L'unico cambio a disposizione quest'oggi Per l'FDM team Che arriva a questo torneo Malconcia però Comunque in ottica Buoni acquisti in futuro Intanto Giuliano Prova il destro Palla a lato Però Ora la palla è in possesso Ancora una volta di Abra Calaia Che va a destra Da Fabio Di Mauro Lo stop di Fabio Contro Fariselli Cerca il centro Fabio Poi torna sempre da Nick Abra Calaia Che sfida Cesari Vuole lo spazio per il destro Lo vuole Lo vuole ottenere Lo trova ora Ottima La risposta Del numero 1 avversario Ottimo anche lo squillo Da parte di Nick Abra Calaia Adesso Fabio Di Mauro Dalla bandierina Viene reati incontro Lo serve Fabio L'uno 2 con Gerlesco Ancora Fabio E mezzo 2 Va da Giuliano Adesso la rimessa in gioco È in favore Dell'Antomans L'ultimo tocco È proprio del numero 30 Anzi no L'ultimo tocco È del numero 23 Dunque rimessa in gioco Ancora Renat Gerlesco Cerca di districarsi In mezzo al traffico Non ci riesce Poco importa Perché la rimessa in gioco Ora ancora in favore Di Baroni Numero 1 In questo caso Il direttore di gara Ha visto un tocco Da parte di un giocatore Della squadra di Fabio Adesso Cesari Dalla bandierina Col sinistro Va a sventagliare Perderà Il destro Pitt Gli dice di no E ora Cesari Dentro la sfera Murata Ancora una volta da Giuliano E ancora Cesari Dentro per il 23 Che cerca la palla A sua volta per Baio Che lotta in mezzo a Baio Si aggancia nei due Fabio Ottimo il lavoro difensivo Una volta Ottimo due volte Poi la palla ancora lì Per il 23 Che cerca di girarsi Fabio Toglie le castagne dal fuoco Ottimo intervento difensivo Da parte del numero 11 Che ora viene anche Contro rilanciato da Pitt Ancora Fabio Il dribbling su Stefanelli Allarga poi a destra Dove trova Renat Gerlesco Ancora Renat Il 21 Si porta a casa Un fallo laterale Ancora Giuliano In conduzione Cerca una soluzione Fabio vuole palla Lo accontenta Ora Giuliano Si va a sovrapporre Proprio Giuliano Attaccato da De Rai Fabio se la cava molto bene Sempre con la Compartecipazione di Nick Abracalaia Che ora prova a innescare Giuliano Da questi a Renat Che cerca di non far uscire Il pallone Poi si porta a casa Anche un calcio di punizione Prezioso Ottimo il lavoro qui di Renat Gerlesco Classe 2006 Con Piajani a dicembre Quindi quasi un 2007 In campo Per l'FDM team Che valorizza Anche i giovani In questo caso Adesso seguiamo Fabio Il dialogo con Calaia Ancora Fabio Fino in fondo In destro Murato Il sinistro Poco importa Fallo laterale In favore sempre di Renat Che vada Calaia Che non riesce ad addomesticare Nel migliore dei modi possibile Questo pallone Poi si avventa Fabio Fallo di De Rai Rientra Guido De Rosa Esce Renat Gerlesco Ma seguiamo il destro Di Calaia Ancora Fabio Strepitoso Il numero 1 avversario A deviare In fallo laterale E adesso Pronto alla rimessa Sempre lui Sempre Nick Che si sta prendendo la palla Per la squadra Per mano E anche la palla Sulla linea Per battere Seguiamo proprio Calaia Che va dentro Per Fabio La palla rimane lì Poi Giuliano Lascia scorrere fuori E ora Attende il pallone Nick Lo riceve solo adesso Pronto a battere Scucchiaia in direzione Guido De Rosa Che non riesce a raggiungere La sfera La raggiunge solo In una seconda Distanza Poi De Rai Si va a riprendere il pallone Attenzione 2 contro 2 De Rai avanza Cerca la palla dentro Poi c'è stato un tocco Monumentale Di Guido De Rosa Che devia In calcio d'angolo Ancora Stefanelli Gioca la palla al centro Fabio ancora molto bene In fase difensiva sul 23 Che lo mura Lo contiene Poi l'uno contro uno Con De Rai Ancora Fabio Poi Caputo Adesso la palla dentro Ancora Pitt Si va a riappropriare del pallone Va a innescare In contropiede Nick Calaia Che riesce a tenere vivo Questo pallone Ancora Calaia Prova ad accendersi Cerca la bicicletta Cerca l'umiliazione Nick Abra Calaia E poi Il destro Poco pretenzioso Da parte di Guido De Rosa Si perde Nel terzo anello Poco importa E ancora 1-0 Si forse qua Guido Poteva gestire un po' meglio Il pallone Comunque lo spazio Per appunto Gestirlo bene Ce l'aveva Bravo Calaia Comunque come sempre A darci spettacolo Però attento il difensore A dargli comunque Diversi metri Diverso spazio E quindi anche A condizionare la sua giocata Adesso Pitt dentro per Fabio Il sinistro Palo Incredibile Vicino alla rete dell'1-1 L'FD-20 Bello lo spunto La parte di Fabio Che va bene sul mancino Trova lo spazio giusto Calcia benissimo Peccato perché viene fermato Soltanto dal palo Il gol del pari Adesso le azioni Stanno diventando Considerevoli Per l'FDM team Ancora Abra Calaia In 1-1 Ci crede Ricchil destro Fabio Ancora una volta C'è da un'altra parte Un portiere da battere Che sta già Una prestazione super Tanti interventi difficili Questo abbiamo praticamente Già visto Qualche minuto fa Bella parata E ora Pitt va a innescare Abra Calaia Ancora Fabio Abra Calaia Attenzione il contatto Calcio di rigore Calcio di rigore Per Bruno Salerno Il direttore di gara Adesso il 5 Tra Nick e Fabio Abra Calaia Vediamo Bruno Che è pronto a fischiare A sancire Questo calcio di rigore Traversa Incredibile di Abra Calaia Dopo il palo di Fabio Si aggiunge anche la traversa Di Nick Adesso il contropiede avversario Attenzione 3 contro 2 Cerca di tenere vivo Questo pallone Il numero 5 dell'Antomas Ce la fa anche Con la collaborazione del 23 Fallo di Guido De Rosa Peccato Ha un passo ancora una volta Dalla rete dell'1-1 Però questo gol Non vuole proprio arrivare Quest'oggi Peccato Perché comunque Sta producendo molto L'FDM Però vediamo Perché adesso si deve difendere Adesso vediamo Cesari De Rai Sul punto di battuta Pit dispone meticolosamente La barriera Con Calaia che guarda il cielo E si dispera Perché sapeva Che avrebbe potuto fare Qualcosina in più Adesso il sinistro di Cesari Alto Ma dite che comunque Abbiamo visto anche Un manto erboso Su cui non rotola bene La sfera E questo comunque incide Soprattutto per i giocatori Di futsal Ma adesso seguiamo Nick Calaia Che vuole L'inserimento di Fabio Dentro da Fabio Che sguscia via in mezzo Ancora Fabio Alta Sopra la traversa Ma come si trovano Il 10 e l'11 Che stanno dipingendo calcio Fuzza Qual si voglia O qualunque cosa voi vogliate Sì bella giocata Da parte di Fabio Peccato perché poi Essendosi portato un po' sull'esterno L'angolo era chiuso Non ha deciso a trovare la porta Però bel guizzo Ancora da parte di Fabio Che comunque sta facendo Una buona partita E ora è il numero 1 avversario Va dentro da Cesari Attaccato da Fabio Non riesce a girarsi Il numero 7 Che ora cerca l'aiuto Avversari Poi voleva il dialogo Con un potenziale pivò Che però non c'è Adesso poco importa Perché Renazzi Va a riprendere questo pallone Contro Fariselli Ancora Fabio Dentro per Calaia Che sbaglia lo stop Attenzione Ancora l'attacco di Fariselli 2 contro 1 Attenzione Fariselli E De Rai contro Guido Ancora De Rai Il dialogo Dentro per Fariselli Ed è 2-0 Ripartenza Micidiale Per l'Antomas Che trova il raddoppio In questo caso E Fariselli A portare avanti i suoi Per due reti a zero Ottimo il dialogo con De Rai Peccato perché Da uno stop mal riuscito Su un terreno anche Magari opinabile In quel senso Non sono riusciti a Contenere Il contrattacco Dell'Antomas Sì bravi comunque ragazzi Dell'Antomas A sfruttare bene Attenzione Fabio Ancora una volta Il sinistro ci sta provando In tutti i modi E ora seguiamo proprio Fabio Che va dentro da Calaia Che non arriva sul pallone Viene anticipato da De Rai Poi Caputo Aggredito ancora da Baio Caputo su due uomini Va a giocare dentro per Pit Che sbaglia lo stop E De Rai Fa il 3-0 Qui è Roraccio Tra Caputo E Pit De Rai ne approfitta Adesso è il dialogo Tra Nick e Fabio Ancora Nick Prova ad accendersi Cerca lo spazio Nick Palo Ancora una volta Adesso Terzo legno Per l'FDM Che davvero Non trova fortuna Prova Luca Baio A lottare in mezzo a due Si porta a casa Anche un fallo Gioca alla spera In direzione Fariselli Buone lavoro di suola Di Fariselli Che prova a sgusciare via Ottimo ancora Fariselli Fino in fondo Giocatore ex progresso Che ha giocato in serie di Ricordiamolo Fariselli Che si porta a casa Un altro fallo E adesso Tiro libero Perché È stato commesso il sesto fallo Da Rai contro Pit Baroni Pronto a partire Il numero 8 Alta Sopra la traversa Quando manca ormai Pochissimo Allo scadere dei 25 minuti di gioco Pit va lunghissimo Per Abra Calaia Che fallisce lo stop Poi riceve anche un calcio in petto Tutto regolare per il direttore di gara Che rilancia sempre da Rai Contro Rena Gerlesco Ancora da Rai Che mette fuori la sfera Perché vede Nick a terra Che ha ricevuto un calcio All'altezza del petto Adesso finisce qui il primo tempo Sul punteggio di 3 reti a 0 E allora è tutto pronto Per questo secondo tempo Per questa ripresa Con Luca Baio Sul punto di battuta Che sancisce ora L'inizio Dei secondi 25 minuti di gioco Con Stefanelli Che gioca per De Rai Da questi a Fariselli Attaccato da Fabio Vediamo se avrà una reazione L'FDM Team Adesso Fabio Ottimo lavoro su Fariselli Però c'è anche un fallo Semplice rimessa in gioco Semplice fallo laterale Adesso Fariselli Gestisce sempre in collaborazione Con De Rai Dunque ancora Fariselli Destro alto Adesso Giuliano Caputo Che cerca una soluzione La vorrebbe accanto a sé La cerca in verticale Per Nick E adesso intervento monumentale Da parte di De Rai Che diventa un portiere aggiunto Per la sua squadra Adesso fallo Da parte di Baio Non è così Secondo il direttore di gara Che lascia il vantaggio Fabio buona Sull'imbucata di De Rosa Torna sempre da De Rosa E ancora Fabio Il numero 1 avversario Ma adesso seguiamo invece L'11 di Mauro Che cerca lo spazio A prendere la sfera Con la sua supremazia Territoriale Quanta superficie occupa Questo giocatore Anche sotto l'aspetto Fisiologico Oltre che caratteriale Ma adesso Stefanelli Si va a riprendere Ancora una volta la sfera Il dripping in mezzo a due Giuliano Caputo riceve E poi Fabio Non riesce nel guizzo Su De Rai Attenzione a porta scoperta Il 23 contro Pit Ancora il 23 col tacco Guido De Rosa Nega la gioia del gol Nega il 4-0 Ma non è finita Seguiamo ancora il 23 Che cerca l'imbucata Per Stefanelli Ancora il 23 Tutto solo Cerca Lo spazio per il sinistro Non lo trova Adesso deve Cercare una soluzione alternativa Che non la trova De Rai Il sinistro Pit Questa volta strepitoso Si strepitoso Concordo in pieno Perché comunque Preso in controtempo La palla arriva da una parte Lui deve andare Dallo stesso lato Ed è bravissimo A farlo con estrema velocità E a leggere prima Anche la situazione Adesso De Rai Pit Allarga le gambe Adesso Giuliano Va da Fabio L'1-2 Tra il 30 e l'11 Poi rischia un po' Giuliano Se la cava bene Anche con l'assistenza Di Renat Gerlesco Che cerca ora Di dipingere Fuzza al calcio E allargando a sinistra Per Guido De Rosa Quello che non ha fatto Antecedentemente E adesso sempre Renat Sempre con la solita eleganza Ancora Gerlesco Torna all'indietro da Giuliano Che carica il destro Rimpallato Ancora da Fariselli Poi Giuliano Molto bene Si va a riprendere il pallone Lo pulisce Con la collaborazione Di Guido De Rosa Da questi a Fabio In 1-1 con De Rai Fabio vuole il centro Poi cerca la verticale Per Guido Anticipato dal 23 Attenzione che può tramutare L'azione della difensiva Offensiva La squadra avversaria Attenzione De Rai Pit Si bravo Pit Che in un primo momento Sembrava quasi aver lasciato Il primo palo libero Ma forse era fatto anche appositamente Per indurre l'attaccante A calciare lì Bravo Attenzione il destro Da parte proprio del 23 Sull'assistenza di De Rai E adesso Ancora calcio d'angolo Affidato a Cesari Con la 7 Vediamo Marcazona L'FDM team Cesari va all'indietro Da Stefanelli Capisce tutto Renat Gerlesco Che può ripartire Ancora il 21 Velocissimo Renat Che cerca il numero Cerca anche lo spazio Fa fuori secco Stefanelli Allarga a destra Poi da Di Mauro Il tocco però di Cesari È fondamentale per impedire Che il pallone giunga Proprio al numero 11 Che è pronto ora a battere Il fallo laterale Con la collaborazione Di Caputo Giuliano Che ora Cerca una soluzione Non trova Compagna attorno a sé Se non il solito Fabio Che può ripartire Ancora Fabio In 1 contro 1 Cerca l'imbucata Per Guido De Rai Scorta la fuoricità Del pallone Ma l'ultimo tocco È proprio del numero 8 Dunque calcio d'angolo Intanto esce ora Fabio Entra Nick Calaia Rifiato il numero 11 Che ricordiamo Non è al 100% della forma Intanto Renat Non riesce a centrare Il pallone Sull'assist di Guido De Rosa Il mago La gestione In collaborazione con Giuliano Può ripartire ancora Caputo Che cerca lo spazio necessario Per imbastire una trama di gioco E lo fa con l'aiuto Di Renat Gerlesco Che punta Cesari Ancora Renat Allarga ancora a destra Dove trova Giuliano Ancora Giuliano Fino in fondo Giuliano il destro Diventa un assist Per Guido De Rosa Che riapre la partita Fa 3 a 1 L'ex compagno di Fabio Finale Emilia Riaccende il match Sì comunque un bel gol Da parte di Guido E bravi perché hanno fatto Tutto da manuale Tiro di Giuliano Ma Guido c'era sul secondo palo Pronto a prendersi questo pallone E buttarlo in dentro Cosa che è accaduto Adesso 3 a 1 Adesso Vediamo se riuscirà A suonare la carica Il ritrovato Fabio Il fallo di Renat Genera Calcio di punizione Battuto ora da Cesari Che batte sempre Con l'ausilio del portiere Che è un uomo in più Di questa squadra Poi il 23 Che va da Alessio Baio Che trova la rete Del 4 a 1 Poi Mitra E caccia la freccia Quasi a ridere Abra Caraia Viene dissato così Il mago E ora ancora Luca Baio Si allaccia con Giuliano Caputo Ancora Baio Gestisce bene questo pallone Chiama la sovrapposizione Del fratello Non riesce Poi Fabio attacca Stefanelli Che decide di tornare Direttamente indietro dal portiere Attenzione Fabio Attacca L'altro Fabio Se la cava In maniera rischiosissima Il portiere dell'Anto Ma se ora Pit raccoglie la sfera E può ripartire con calma Va lunghissimo Pit A cercare Calaia Regala di fatto la palla Al numero 1 avversario Che rilancia Proprio per Alessio Baio Il controllo Sempre con la suola Adesso Di Baio Attaccato da Guido De Rosa Fabio Di Mauro Cerca di pressare un po' tutti Non riesce Ritorna in possesso Sempre il portiere Dell'Antomas Che ora va lunghissimo Direttamente Da Fariselli Attaccato Da Nick Calaia E ora Fariselli Va da Luca Baio Cerca lo spazio per il destro Non lo trova Decide poi di tornare indietro Lo fa Con l'aiuto di Cesare Ancora Fariselli Attaccato nei limiti Della regolarità Da Giuliano Caputo Ancora Fariselli Il 19 Si districa in mezzo al traffico Va dal 9 Che cerca il destro Traversa Primo legno Anche per l'Antomas Conto Le traverse Dei pali in generale 3 a 1 In questo caso Mentre il risultato È 4 a 1 Per l'Antomas Adesso seguiamo Caputo Che va da Pitt Cerca l'avanzamento Pitt Che poi prova la verticale Per Calaia Fabio si propone Nick decide di fare tutto da solo Duella con Cesare Poi subisce anche un fallo Si allacciano i due Dice Cesare Non l'ho toccato Nick si lamenta Si va a prendere anche il cartellino giallo Cesare Adesso vediamo Chi batterà questo penalty Ma adesso è tutto pronto Con Fabio pronto a far scoccare il mancino Va Fabio Para L'altro Fabio Tiro a mezza altezza Avrebbe potuto fare qualcosina di più Qui il numero 11 Dell'FDM Team Ma seguiamo dalla parte opposta Ancora Baio Che cerca una soluzione Non la trova Rallenta E imposta Con la collaborazione di Fariselli Che ora non ha fretta Lo sa Cesare Che gioca bene con la suola Poi cerca la verticale Giuliano Caputo Si va a riprendere la sfera Attenzione ora Alla transizione offensiva Dell'FDM Team Con Giuliano Caputo Che va da Fabio Il numero di Fabio Ai danni di Cesare Poi allarga a sinistra Dove trova Nick Calaia Che non riesce A dribblare da Rai Che ora Va di fatto in 3 contro 1 Attenzione Fariselli Si divora La rete del 5 a 2 O meglio del 5 a 1 Pardon Ma adesso attenzione Arraccio di Pitt Fariselli tocca Attenzione Baio Che va dentro ancora per Fariselli Che torna da Baio La combinata grossa qua Pitt Non aveva fatto gol prima Fariselli a porta vuota In questo caso Un'ingenuità clamorosa Da parte dell'FDM Team Genera il 5 a 1 Si però comunque C'è anche da dire Che dall'altra parte Sono stati molto bravi Quelli dell'Antomas E' vero che la circostanza Non era particolarmente difficile Però sono stati molto lucidi E freddi Nel giocarsela bene Passarsi diverse volte il pallone E poi a concretizzare L'occasione che vale il 5 a 1 Ma questa attenzione Fabio ha spazio Lo sa Fabio Che se lo prende Si prende anche il 5 a 2 Riapre subito una partita O quantomeno rende il passivo Meno pesante Anche in ottica Qualificazione In ottica Gironi Ricordiamo che si In questa partita Non è messo particolarmente bene Sia Fabio Complice Un affaticamento inguinale Una lesione Più nello specifico Complice anche insomma Le varie assenze Nonostante questo E' importante questo gol In ottica qualificazione Adesso il destro Di Baio Si riparte Con il numero di cesare E danni di Caputo Si va a riprendere la sfera pit Che questa volta Imposta con più calma E con la collaborazione di Caputo Che prova ad avanzare Ancora Giuliano Cerca lo spazio Per il destro Lo prova ora Buona la parata di Fabio Poi Darai anticipa L'ipotetico intervento Di Renat E ora Darai Capisce tutto Fabio che lo chiude E lo contiene Nella maniera migliore possibile Poi Caputo Cerca di innescare Proprio l'undici L'ultimo tocco E' sempre del giocatore Con la camisetta viola E con la otto Rimessa in gioco In favore Della FDMT Ora Renat Gernesco L'elastico Con tunnel su Fariselli Numero incredibile Di Renat Poi però Fariselli Si va a riprendere la sfera Fariselli Toccato da Fabio Che gli impedisce L'accesso in porta E adesso si va a prendere Anche il cartellino giallo Fabio Di Mauro Dopo il gol Arriva anche la seconda Segnalazione sul tacquino Di Bruno Salerno Cartellino giallo Seguiamo Fariselli Contro Pit Che si muove su Tutta la porta Cerca di intimorirlo Parte Fariselli Palla a lato Sì è stato bravo Perché ha questo modo Di parare i tiri liberi Tende a non aspettare il tiro A chiudere lo specchio Che è un'opzione Che chiaramente ci sta Ed è stato comunque Bravo secondo me Nella tecnica In questo caso Coprire lo specchio Adesso Abra Calai E il dialogo con Fabio Per poco non arriva Renat Gerlesco Però riparte Cesari Sempre col Luca Baio Nick Si va a riprendere la sfera Poi Renat Ancora un altro numero Tanto per cambiare Poi Fabio da ultimo Si riapropria del possesso E va a giocare a sinistra Per Renat Brutto il gesto di Luca Baio Che di fatto gli va a dare Un pugno in pancia a Fabio Adesso si va a prendere Anche il cartellino giallo Però adesso occasione Per l'FDM E ben detto anche in ottica Di gol futuri Può essere utile Parte Nick Calaia In crocio dei pali Ancora una volta Ma c'è stato ancora una volta Il tocco di Fabio Monumentale Eh sì Ritornando al discorso di prima Piccoli uomini Piccoli gesti Ma finisce ora Il primo match Di qualificazione Del torneo nuovi Si conclude col punteggio Di 5 a 2 In favore dell'Antomas Brutto scivolone Bisogna riprendersi Dalla prossima partita Per rimettere le cose a posto E magari anche con qualche Giocatore in più Eccoci dunque Nel post partita Del primo incontro Di qualificazione Del torneo nuovi Insomma non c'è andata bene Abbiamo perso 5 a 2 Il primo tempo è stato Così e così Abbiamo chiuso con un passivo Di 3 reti a 0 Sfortunati a prendere un palo Due traverse Insomma chi più ne ha Più ne metta Poi nella ripresa Siamo andati un pelettino meglio Però tanti errori Anche di concentrazione Secondo te cosa non ha funzionato C'è da dire che comunque Noi siamo una squadra Appena fatta È stata la prima partita Che abbiamo fatto assieme Sì penso che Questo sia stato L'aspetto fondamentale La squadra l'abbiamo fatta Oggi stesso Mentre gli altri Sono una squadra Comunque già abbastanza Consolidata Fanno i tornai insieme Siamo giocatori Che si vedono per la prima volta E quindi è difficile Subito trovare la sintonia giusta E vedremo nelle prossime partite Sicuramente Sono avvantaggiati Giocheremo con squadre Sulla carta inferiori Quindi punteremo a far meglio Le prossime Detto questo Come si è andato A livello fisico Ma come hai detto all'inizio Non sono al 100% Non posso dare Tutto quello che posso dare Però cerco comunque Di dare il mio Per quanto posso Per quanto riguarda Il rigore sbagliato Prima da te Poi da Nick Commenti Dovevo alzare di più la palla Nel rigore L'ho tirato a mezza altezza Solo che Essendo anche il pallone diverso Rispetto a quello di calcio a 5 Si alza molto più facilmente Quindi ho un po' paura Di tirarlo alto Invece Per quanto riguarda La storia delle partite Abbiamo preso davvero Un cabaret di pali e traverse Incredibile Qualora avessimo fatto Qualche gol in più Avrebbe potuto addirittura Essere varreggiata Se non qualcosina in più Poi secondo me Hanno giocato meglio Gli avversari Per onestà sportiva Però al netto Delle occasioni create C'è da dire Che avremmo potuto fare Gol fino ad arrivare Ai gol del pareggio Sì sì Sono d'accordo Sicuramente Gli episodi non sono andati A nostro favore Avremmo potuto anche vincerla Però come hai detto Tu a livello complessivo Gli avversari hanno fatto Hanno fatto meglio in generale Ma ci sta La prima partita E come hai detto Punteremo a far meglio Le prossime Comunque possiamo ancora Far bene Posizionarci bene Detto questo Hai trovato anche un gran gol Però Quindi complimenti Bellissima rete Sei partito Col sinistro a incrociare Simbolico Importante anche I fini del capocannoniere Magari Qualora si arrivasse Fino alla fine del torneo Potrebbe anche portare a casa Questo titolino Detto questo Migliore in campo per Fabio Qualcuno degli avversari Secondo me Il portiere È stato fondamentale E tra l'altro Si chiama Fabio Come hai detto Ho capito bene Sì anche io ho sentito E invece il migliore Della tua squadra Della mia squadra Direi Renat E allora Sul tuo assist Vado a dire Andiamo a sentire Renat Gerdlesco Eccoci dunque Nel post partita Del primo incontro Del torneo Novi Purtroppo è arrivata La sconfitta Per 5 reti a 2 Innanzitutto Volevo farti complimenti Perché non so se lo sapete Ma Renat È un classe 2006 Dici un po' Quella che è stata La tua carriera Se ti va E poi Andiamo ad anagrammare Anche quella che è stata La partita Niente Io sono partito Qua a Ferrara Alla dribbling Quando ero piccolino Poi sono andato Alla sorgente Poi da là Facevo dei video Su Youtube E mi ha notato il Torino Poi ho fatto Torino Spal Lugano Reggiana E ora ha finito l'anno In Serbia In Alvoivodina E niente Adesso si vedrà Per l'anno prossimo Tra l'altro Ragazzi Un 2006 Che gioca con una personalità In campo incredibile Ti dico la verità All'inizio ti ho notato Un po' spaisato In campo Però col passare dei minuti Soprattutto verso fine partita Metà del secondo tempo In poi E' fatto delle giocate Strabilianti Cioè il dribbling secco Gente di 30 anni Umiliata Da Renat Che ha 16 anni Eh sì Ci ho messo un po' Ad abituarmi Posso fare ancora molto meglio Non sono abituato Al campo a 5 Però Vediamo Alla prossima E' andata bene Nel complessivo Considerato anche Comunque abbiamo affrontato Una delle squadre più forti Di questo torneo Abbiamo affrontato La prima giornata Siamo tra l'altro I maneggiati Come dicevamo Anche nel prepartita Purtroppo oggi Mancava Pozzi Mancava Ferrante Mancava qualche altro giocatorino Che ci avrebbe potuto dare Una grandissima mano Però assenze Che arriveranno poi Nelle prossime gare Quindi avremo anche Un assetto In equilibrio differente Allora noi ringraziamo Renat Gerdele Per l'intervista Che ci ha concesso Ci vediamo Alla prossima partita Non è ancora trovato il gol In me aspetto il gol Nella prossima sfida Ci sarà Grazie mille Dunque ragazzi Il video termina ora Vi ringrazio per averlo visto Vi ricordo di lasciare Un bel like Commentare Iscrivetevi al canale E di attivare la Campanella Lo sa anche Fabio Non lo sapete voi E attivate questa campanellina Noi ci vediamo Al prossimo video Quindi Torneo nuovi Esatto Speriamo di Di vincere Le sa Le sa Fabio Sembra che non le sa Ma le sa Al prossimo video ragazzi Ciao a tutti Ciao